Buongiorno, sono Simone Bettola di Samsung. Oggi durante il convegno abbiamo parlato delle soluzioni di Samsung per il Digital Signage. Samsung è un'azienda estremamente nota per quanto riguarda i prodotti dedicati al mondo consumer, ma stiamo crescendo molto nella produzione di soluzioni dedicate alle aziende e il franchising è uno dei settori di più grande interesse. Il Digital Signage è una concreta opportunità di business per questo settore perché permette di andare ad innovare il punto vendita, di diversifire la proposta, di attrarre le persone all'interno del punto vendita, di creare un'omogeneità nella proposta commerciale e ci sono molti studi di settore che hanno dimostrato come il Digital Signage sia realmente efficace. Samsung Electronics propone una gamma di soluzioni e di prodotti dedicati al Digital Signage, sono monitor professionali collegati in rete, soluzioni touchscreen, soluzioni che ottimizzano la qualità dell'immagine che viene riprodotta nel punto vendita e queste soluzioni sono integrate all'interno di pacchetti che permettono di abbracciare quasi tutti i settori merceologici, grazie anche alla collaborazione con aziende del nostro settore che permettono di offrire soluzioni integrate coprendo tutta la generazione di contenuti del mondo Digital Signage, abbracciando la generazione, la distribuzione dei contenuti, la riproduzione all'interno dei punti vendita e non ultimo la visibilità all'interno dei punti vendita. Quindi durante l'incontro di oggi abbiamo affrontato questo tema proponendo come elemento estremamente importante e differenziante ai franchisor il Digital Signage come una concreta opportunità di business.